Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo una maglia che abbiamo già visto nella versione fan, nella versione player e nelle varie comparazioni. Però volevo riprenderla con le tre stelle dei campioni del mondo, la seconda maglia dell'Argentina del 2022-23. La maglia Way della Coppa del Mondo Argentina 2022 combina due diverse tonalità di viola con dettagli argento, come i loghi Adidas e della Federazione. Ufficialmente i colori sono Legacy Indico Purple Rush. Il soldo in Argentina in argento chiaro è sul retro sotto il colletto, simile alla divisa casalinga. Le tre stripes poste sulle spalle della nuova maglia Way sono tenute in un sobrio viola chiaro. Completando il look, la maglia presenta una debole grafica sul davanti, anche questa ispirata al Sol de Mayo. Questa è la prima volta che la nazionale indosserà il viola, un colore comunemente associato ai movimenti delle donne. Questa maglia è bellissima, tra l'altro si arricchisce del fascino della squadra appena campione del mondo, quindi voglio dire una maglia che sicuramente dovete avere. Nella mia personalissima classifica questa prende 5 stelle, mi piacciono tantissimo i colori, sono veramente indeciso tra questa e quella, è la prima maglia, entrambe stupende. Il costo lo vedete qui sopra, che per questa maglia, con questa qualità e nella versione player, è bassissimo. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Vi ricordo tra l'altro che trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 chili circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.